bella raga sono tef e in questo video si parlerà di miraclus cioè io parlerò di miraclus voi ascolterete basta comunque vi dirò perché ho iniziato a portare questa serie in streaming e premetto che non rischio di perdere il canale e voi vi chiederete perché perché i soldi fatti da quei video vanno a chi ne ha i diritti come mi sa tipo la zag quella roba lino vabbè cominciamo perché porto per miraclus perché lo porto ci sono tanti motivi primo motivo è uno dei pochi cartoni che mi piacciono e non pensate che sono tipo un bambino che guarda cantoni perché cartoni perché non è vero a parte perché io guardo tanti film horror e altre robe veramente pieni di sangue poi guardo cartoni cioè io veramente dei gusti molto particolari diciamo che può piacermi la roba con i serial killer e anche la roba più verso miraclus ecco ho dei gusti un po così ok e comunque aggiungendo anche che quando porto comunque gli episodi vedo che piacciono molto perché fanno le visual in confronto a brawl stars che almeno in questo momento in cui sto registrando fa molto più fanno molto più visualizzazioni video di miraclus poi non so se cambierà anche se non credo perché poi appena uscirà la quarta stagione secondo me veramente li potrebbero uscire le peggio visual almeno spero comunque ditemi voi qui sotto nei commenti se vi va comunque che continuo a portare miraclus in streaming o se vi siete stufati però secondo me ci terrete almeno spero perché poi c'è comunque miraclus ha aiutato molto il canale nella crescita perché poi c'è stato proprio un picco così in su che voi non avete idea c'è io l'ho visto da social blade che è un sito per confrontare comunque youtuber o anche per giudicare proprio il tuo canale che ti dà un voto e tutto il resto e comunque mi ha detto che miraclus mi ha aiutato molto ecco cioè non mi ha detto che miraclus mi ha detto che i miei video di miraclus vabbè uguale ah vabbè ovviamente quelli della parte di brawl stars se ve lo state chiedendo ovviamente la serie la continuerò a portare cioè la serie i video di brawl stars li continuerò a portare tranquilli non c'è nessun problema e comunque no aspetta cosa devo dire ancora esatto che lascerò uno spazio a miracolo scusate ho anche gli appunti per ricordarmi robe non è che mi devo non è che posso ricordarmi sempre tutto rega comunque quante volte dico comunque ah sì nel video scriverò no no non lo scriverò lasciamo stare volevo dire quante volte dicevo comunque però non c'è bisogno di mettere anche il counter non fate meditare così tanto ah sì un'altra prova che comunque esatto che voi voleate vedere c'è una prova che comunque alcuni di voi volevano vedere miraclus è che ho fatto un sondaggio e oddio 85 per cento dell'85 per cento delle persone ha votato miraclus adesso forse anche di più non lo so io comunque diciamo che la maggior parte di voi lo vuole vedere a premetto un'altra cosa per chi se lo stia chiedendo magari nessuno solo chiede ma io comunque lo premetto comunque nel dubbio cioè comunque lo premetto comunque è il top allora se vi interessa posso portare lo streaming di altri cartoni però vi dico già che youtube è molto cioè non è youtube più che altro è alcuni cartoni si possono portare altri no tipo miraclus si può altri non si possono portare perché dipende dai diritti diciamo cioè i diritti io non li ho a prescindere però dipende che chi ha fatto il cartone che ha i diritti se vuole che il loro episodio va su youtube cioè quelli di miraclus vogliono ecco cioè al per alcuni episodi alcuni me li bloccano ma va bene lo stesso almeno quelli importanti li lasciano e niente anche per questo perché se lo sta chiedendo ci sta non so se l'ho già detto però comunque lo dico adesso nel dubbio se come non si sa mai di questi tempi possono essermi scordato però io lo dico magari magari l'ho già detto però lo ridico forse non l'ho mai detto non lo so vabbè allora io ho portato anche miraclus anche perché veramente fa un bel successo cioè se vedete gli episodi veramente fanno tanti visual quindi per me sarebbe anche un brutto colpo cioè sarebbe una brutta cosa secondo me se mi diceste che non lo volete non lo vorreste più vedere nella serie ma probabilmente cioè mi direte tutti che volete vederlo e soprattutto alla quarta stagione almeno spero proprio penso sia così è veramente comunque ho fatto una playlist vi lascio qui sotto in descrizione andatevi a recuperare i vecchi episodi se ve li siete persi o magari fate anche un rewatch chi lo sa se vi va ah e ditemi anche se vi va di vedere altri video così dove io parlo e comunque nello schermo metto in questo schermo qui questo schermo nero che vedete metto foto così a caso di miraclus intanto che parlo dicono cioè ditemi se vi piace questo tipo di editing sicuramente perché se lo stia chiedendo ha ancora la faccia la uscirò probabilmente molto più avanti perché ancora non è che non me la sento però secondo me è troppo presto cioè comunque 10.000 spero vi accontentiate della voce anche se probabilmente avrò già fatto un video prima di questo in cui dicevo cioè in cui facevo lo speciale quindi ok e ovviamente in questo video potete commentare anche se è un video di miraclus perché questo non è proprio un episodio in streaming sarà un episodio che edito io e tutto il resto quindi spero che la zag non mi invii tipo la segnalazione per qualsiasi cosa perché ovviamente questo video almeno provo ci proverò spero di riuscire a monetizzarlo perché perché così mi sono scordato di una cosa molto importante cioè molto molto abbastanza importante primo commento fissato in alto da me ovviamente c'è il gruppo telegram che ho creato su miraclus dove possiamo parlare tutti insieme entrate cioè si entrate tranquilli non vi bando almeno se non fate cavolate non vi bando poi magari ovviamente sarà un gruppo giusto per chiacchierare così ognuno dirà la sua qualche critica su astrug su astrug perché dicono che lui diciamo che non mette troppo il risalto chanoir ma più ladybug quando dovrebbe essere 50 percè parleremo di tutto lì nel gruppo ok poi magari più attivi verranno fatti anche moderatori e amministratori vediamo comunque entrati in tanti almeno spero entrati in tanti dobbiamo superare almeno i 100 200 spero poi da lì in poi ci sta va bene così poi dalle in poi punto ai mille e così via capito no ditemi qui sotto se volete che continuo sta serie o no cioè sto streaming diciamo perché io ci aggiungo la intro e scrivo che i diritti ne ha la zag quindi ditemi solo se volete che aggiungo cioè che continuo sta serie sto streaming quello che è o se va bene così basta magari nel dubbio no è vero volevo lasciare un altro sondaggio in questo video ma mi sa che youtube li ha disattivati quindi rip voi fatemelo sapere qui sotto poi comunque i commenti li leggo tutti e lascio il cuore a tutti e rispondo almeno prova a rispondere a tutti cioè ai commenti almeno alle domande diciamo vabbè niente iscrivetevi lasciate like se volete supportarmi bella raga ciao 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 ciao